Ciao, buonasera. Questa sera voglio parlarti delle relazioni sane, perché quello che ho visto nel tempo attraverso il mio lavoro è che ci si dimentica spesso quando si è stati in relazioni conflittuali di che cosa sia una relazione invece funzionale. Allora intanto mi presento, sono la dottoressa Teresa Natale, Life and Focusing Coach, mi occupo di aiutare e ho già aiutato decine di persone ad uscire fuori dalla rabbia, dalla tristezza, dalla delusione, delle relazioni tossiche e ad aprirsi ad una vita senza la manipolazione. Mi occupo anche in generale del mondo della relazione, quindi la relazione anche sana, funzionale, quindi con soggetti funzionali e la relazione con te stesso, perché poi tutto parte sempre da te stesso. Questo video questa sera l'ho pensato proprio perché nell'ultimo periodo mi sono interfacciata con molte persone che sono usciti fuori da relazioni tossiche, cioè nel senso che non hanno più un compagno o una compagna tossica, ma stanno vivendo tutti i postumi di una relazione che non ha funzionato, perciò anche per chi è passato molto tempo continua ad avere alti e bassi umorali, tristezza, delle sensazioni di smarrimento, una difficoltà a ricucire la propria identità, a ritrovare la propria direzione. Sono di solito quelle persone che non chiedono aiuto dopo una relazione così disturbante, così dolorosa come quella di una relazione tossica. Le relazioni di questo tipo hanno bisogno di un ascolto molto profondo, quindi ti invito se ancora oggi ti senti con cambi di umore frequenti, dolori anche fisici, mal di testa, apatia, se senti che hai perso l'entusiasmo, la solarità che avevi prima, ti invito veramente a non abbandonarti al ma sì il tempo è giusto a tutto, perché il tempo va anche un po' aiutato. Poi specialmente in questo periodo in cui tutto corre alla velocità della luce, abbiamo proprio bisogno di fermarci e dedicare quel tempo a noi stessi. Se sentiamo che c'è un malessere diffuso, perché la vita ottimale è quella in cui senti che hai un'energia attiva, viva, e quando stai bene la tua energia è a un buon livello. Hai, o nonostante a riuscire, nel riuscire a fare tutto quelle che sono le tue incombenze quotidiane, hai ancora l'entusiasmo, quello di un bambino, quello della voglia di conoscere, di scoprire passioni, idee, sogni. Quelle non sono relegate solo a chi è under 30, veramente puoi continuare a desiderare, sognare, formarti, crescere senza limiti di tempo. Questa è una vita ottimale, questa è la vita che vale la pena di essere vissuta. Perché ti dico tutto questo? Perché veramente vedo tante persone che si sono anche abituate a stare male, abituate a viaggiare con un profilo molto basso, persone che avevano posti di lavoro interessanti, ruoli interessanti, che magari ancora adesso ricoprono, ma che hanno perso la luce, la solarità, la voglia di fare, la voglia anche di dare lustro a quella parte delle passioni personali che esulano un po' dalla vita relazionale e dalla vita professionale. Allora di che cosa voglio parlare questa sera? Questo video è per te, per farti riconnettere a quella che è una relazione che funziona. Quando parlo di relazioni puoi pensare a qualsiasi forma di relazione, sia con un compagno o una compagna, con un amico, un'amica, i tuoi figli, i tuoi genitori. Tu in questo momento potresti essere anche una persona che vive sola, ma anche una persona che invece sta vivendo con i propri genitori o con i propri figli. Oppure una relazione con il tuo socio, quindi nell'ambiente di lavoro. Sono relazioni importantissime e spesso quando si è stati in relazioni disfunzionali ci dimentichiamo di che cosa sia una relazione sana, equilibrata, dove c'è dialogo, dove c'è condivisione, dove c'è partecipazione e dove si affrontano anche i conflitti in modalità non violenta. Quindi utilizzando una comunicazione non violenta. Quindi questa sera ti presenterò sei punti da tenere a mente, ma sui quali allenarti, sul quale ritornare, ritornare e se non riesci a svilupparlo piuttosto ti fai aiutare. Perché noi dobbiamo imparare a comunicare, dobbiamo imparare a riconoscere che cosa è accaduto, quindi avere una buona capacità di visione di ciò che accade intorno a noi, una buona capacità di sintesi, una buona capacità di decidere qual è il momento giusto per parlare, per esprimere quelli che sono le nostre idee, la nostra apertura all'altro e connetterci con quelle che sono le nostre emozioni per presentarle all'altro, ciò che si sente e anche quelli che sono i bisogni. Solo quando ci sono questi presupposti possiamo ritenerci maturi interiormente. Allora, visto che spesso mi sono occupata e mi occupo di relazioni disfunzionali, la relazione tossica, però non è che il conflitto è solo nella relazione tossica, molte volte i conflitti sono anche nelle relazioni cosiddette funzionali, ci può essere quel momento di non condivisione di scelte o si litiga per i figli o per i suoceri, per qualcosa che è avvenuto, per un cambiamento che ha impattato in maniera notevole all'interno della coppia. Immaginiamo un trasferimento di lavoro o una perdita di parte dello stipendio o una difficoltà di salute. Ci sono delle situazioni che a volte rendono la coppia tesa, danno adito a momenti di tensione. Come sempre il lavoro importante è quello di praticare, osservarsi ed essere onesti con se stessi, cioè di dire ok c'è qualcosa che non sta funzionando, che cosa posso fare io e poi parlare con l'altro. Quindi che sia il tuo socio, che sia un genitore, che sia un figlio, che sia un amico o un compagno, non accompagna, è importante aprirsi all'altro nella modalità giusta, perché spesso si è abituati a parlare nei momenti sbagliati o non a gestire le proprie emozioni. E allora anche se l'intento è quello di risolvere, facciamo più danno che altro. Allora dobbiamo veramente decidere di seguire dei passi. Quindi questa sera attraverso questi sei punti, perché ti presenterò sei punti, sei punti che dovrai tenere a mente, su quali potrai allenarti, quando hai un conflitto, una discussione, qualcosa che vuoi chiarire. E allora che cosa è importante che tu tenga a mente? Il primo fra tutti questi punti è quello del connetterti alla persona con la quale hai avuto il dissidio e solo con essa, perché spesso, ad esempio accade molto spesso nelle relazioni di coppia, entriamo in conflitto con il nostro compagno o tu con la tua compagna o con il tuo compagno, perché hai avuto una tensione fuori casa. Oppure viceversa, hai una tensione in casa e poi hai una difficoltà con un collega o una collega. Tu devi sempre capire esattamente da dove sta nascendo la tua tensione, devi essere onesto. Io aiuto tante persone, questo è il mio lavoro. E molte volte c'è proprio questa confusione. Si è arrabbiati e a volte non si comprende per che cosa. Si è arrabbiati, tesi, delusi. E non si comprende che la tensione in realtà arriva da quel collega che una settimana prima si è comportato o ha detto delle cose in una maniera non gradevole. Si è pensato di digerire quella scena, mentre poi a casa si è diventati più nervosi, più scontrosi. Invece è tua responsabilità quella di capire da dove nasce la tua tensione, da dove nasce il tuo disappunto. Perché non possiamo scaricarci su chi non è in quel momento l'altra parte dello stato di tensione. Perciò questo è il primo fattore che è fondamentale perché tanti, tanti hanno l'abitudine di scaricare sulle proprie relazioni, ad esempio con i propri genitori o con i propri fratelli o arrivare a casa e diventare delle iene con i propri figli. Fai attenzione a questo. Quindi questo è il primo passaggio. Il secondo passaggio è quello di, questo è molto importante sia nel mondo del lavoro che con le amicizie, ma anche tanto tanto nella relazione di coppia. Cioè scegliere il momento giusto in cui poter parlare. Dovete capire quando il vostro compagno o la vostra compagna sono reperibili. Ci sono dei momenti, voi lo conoscete perché se siete in relazioni con una persona, voi sapete qual è il momento migliore per parlare. Lo so che tu potresti avere un'urgenza impellente di esprimerti, di dire tutto quello che hai dentro, però è un atteggiamento poco maturo. E' importante invece, proprio perché questo determina la tua maturità psicologica, mantenere quel controllo, quella gestione e scegliere il momento più opportuno per parlare con l'altro. Anzi, è molto molto indicato chiedere all'altro e parlare con l'altro dicendo ho bisogno di parlarti, ci ritagliamo un momento, ho voglia di parlare con te. E si decide, si spegne il televisore, si speggono tutti i disturbi, non si tiene il cellulare vicino e si parla, si parla col proprio compagno o col proprio socio o con la persona con cui si è in relazione. L'altro aspetto che guarda qui, come ho già detto in altri luoghi, bisogna fare una differenza fra uomini e donne. Molte volte alle donne manca l'approccio amichevole verso il proprio compagno o verso il soggetto del conflitto. Mentre molte volte gli uomini sono un po' più superficiali nell'ascoltare le emozioni degli altri. Sono delle generalizzazioni, io non amo le generalizzazioni, però effettivamente ci sono delle sfumature in questo senso che cambiano. Allora è molto importante che tutti quanti noi, uomini e donne, si osservino questi due aspetti. Uno, ascoltare, mettersi in contatto con l'altro e prestare le orecchie, il cuore, tutto il corpo nel sentire che cosa sta provando l'altro e non minimizzarlo. La seconda cosa è quella di, specialmente le donne, che a volte, ecco, fanno un po', nell'impeto della voglia di parlare, magari nella rabbia, tendono a scaricare velocemente, senza arrivare invece con una modalità amichevole. E invece uomini e donne dobbiamo essere più amichevoli. Perciò se non è il momento giusto, cioè se senti che sei ancora troppo addirato, aspetta, rimanda a quel momento, perché se tu hai delle buone intenzioni ma arrivi alla chiacchierata con l'altro in maniera impetuosa, con ancora un carico di energia da voler impegnare per dire e svuotare il sacco senza il giusto tempo, il giusto ritmo, rischi di avere, di ricevere poi una reazione dall'altro, quindi potrebbe attaccare l'altro, potrebbe interrompere l'ascolto, potrebbe attaccarti, potrebbe reagire in una modalità che può essere di vari modi, perché di solito si diventa aggressivi o comunque passivo-aggressivi. Perciò sono sempre modalità reattive e queste molte volte si mettono in movimento proprio quando non ci si è approcciati all'altro con la giusta calma. E' successo a tutti, nulla di male, ma siamo esseri adulti e dobbiamo attivare un certo grado di consapevolezza su certi movimenti. Che cos'è che ancora dobbiamo cercare di portare in luce? Che cos'è che veramente diventa importante? Essere totalmente focalizzati sui fatti, su quello che è accaduto con un occhio obiettivo. Perciò l'obiettività richiede la calma e richiede di entrare nell'ascolto preciso di quello che è accaduto, quindi rivedere la scena, rivedere che cos'è accaduto, riportare i fatti esattamente per quello che sono stati. Bisogna essere molto molto precisi su quell'avvenimento, non iniziare a pastrocchiare prendendo spunto da quello che era successo una settimana prima, no ma perché poi tua madre mi ha detto, cioè iniziando a fare confusione, o perché tu sei così. No, dovete andare dritti su quello che è il tema, quello che è accaduto. A questo punto, quando avete in esame esattamente solo i fatti di quel momento, diventa importante che tu esprima all'altro che cosa hai provato in quel momento. Quindi, quando tu mi hai schernito, preso in giro, quando ti sei presentato all'appuntamento un'ora dopo, io mi sono sentito, io mi sono sentito non rispettato, deluso, tradito, ingannato, cioè dovete andare ad attingere il vostro campo emozionale ed esprimere esattamente quello che avete sentito. Questo è proprio la base della comunicazione non violenta. E ultimo punto importantissimo, agganciare a questo, quindi quella volta in cui è raccontata il fatto, io mi sono sentito in questo modo ed esprimete, ed esprimi la tua emozione, l'ultimo punto è avrei invece avuto bisogno di, perciò la volta ieri, quando sei arrivato con due ore di ritardo, sto facendo un esempio, mi sono sentita abbandonata, mi sono sentita non rispettata, mi sono sentita impaurita, quello che volete, quello che è, avrei avuto bisogno che tu mi chiamassi semplicemente per avvisarmi del forte ritardo. Avrei avuto bisogno che quando sei arrivato mi chiedessi almeno scusa o che non arrivassi con quell'impeto del ma tanto lo sai che io sono molto impegnato o impegnata, perché a volte sono più aspetti di cui noi possiamo sentire la necessità. Con l'esempio che ho fatto, con questo esempio, banalmente uno può dire avrei avuto bisogno di essere abbandonato, ma a volte ci sono persone che attendono anche senza grossi problemi, però poi nel momento in cui l'altro arriva richiederebbero almeno delle scuse o delle spiegazioni. Quindi questo è in base a quello che tu senti che è per te, ma è importante proprio questa modulazione. Quindi capire chi è la persona a cui rivolgere il tuo malcontento, capire il momento in cui poter parlare, renderti veramente conto che stai per entrare in contatto e vuoi risolvere una situazione, quindi entrare in una modalità più possibile amichevole, perciò è importante che tu gestisca, che tu abbia ascoltato le tue emozioni, che tu sia in quel momento pienamente nel controllo, nella gestione di te e che poi tu possa esprimere i fatti, il momento chiaro e subito dopo come ti sei sentito e di che cosa avevi bisogno. Questo è questo video, che è un video training per guidarvi verso una comunicazione sana, non violenta, vuole essere veramente un allenamento a attingere, ad arrivare verso delle comunicazioni più funzionali. In giro tanti disaccordi, tante incomprensioni, arrivano proprio da una mancanza di comunicazione sana e per me, per quello che vedo, è alla base, veramente alla base, delle relazioni in giro con il mondo. Pensate ad esempio in questo momento così particolare a livello sociale, dove ognuno di noi ha le sue idee, ognuno di noi attinge informazioni in giro. Comunicare in maniera efficace, chiara, esprimendo ciò che si sente, esprimendo le proprie idee, nel rispetto totale dell'altro, nell'ascolto totale dell'altro, può fare veramente la differenza, può creare unione e non scissione. Ci vediamo prossimamente, condividi questo video, iscriviti al canale se hai gradito e quindi se vuoi ricevere le informazioni su altri contenuti e ci vediamo prestissimo. A presto!